Siamo con Federico Zunino del Benarzole, oggi purtroppo per voi non è andato come volevate, 2-0 per il San Sebastiano, ci sono stati tanti episodi, però secondo te che cos'è che non ha funzionato? Allora, secondo me sicuramente l'approccio è stato giusto perché comunque siamo entrati in campo concentrati, al primo tempo si può anche dire che abbiamo avuto più il dominio del gioco, abbiamo avuto anche più occasioni di loro comunque, tant'è che abbiamo sbagliato anche un rigore purtroppo, mi sono visto anche parare un colpo di testa sulla linea con la mano del difensore, però è stata così. A dire il vero negli spogliatoi eravamo anche convinti di poterla portare a casa questa partita, però appena rientrati siamo stati fregati perché abbiamo preso una ripartenza un po' così, su una palla persa, disimpegno classico, quello che si vede ogni domenica alla fine, una volta che abbiamo preso il gol secondo me abbiamo pagato un po' la nostra gioventù perché dopo il primo gol si deve reagire e da quel che vedo da qui fino a inizio anno ogni volta che prendiamo il primo gol patiamo sempre sulla fase emotiva e questo è simbolo di inesperienza. Dobbiamo lavorare su questo, ne siamo consapevoli, sia il mister della società, magari adesso sul mercato prenderemo qualcuno per invecchiare anche un po' la squadra, però sull'approccio non si può dire niente, impegno dei ragazzi nemmeno, sono convinto che comunque con questa mentalità dei punti arriveranno, comunque oggi era una squadra buona quella che abbiamo incontrato, diciamo che c'è rammarico anche.